L'idea della giornata di oggi è quella di una. I dati hanno dimostrato che non c'è da distrarsi, bisogna andare avanti nell'opera di risanamento dei conti pubblici ma soprattutto bisogna rilanciare l'economia. Noi vogliamo essere un punto di riferimento, stiamo al governo per difendere queste categorie, per difendere questi interessi. A proposito di rilancio dell'economia e di crescita, con le riforme il governo aveva promesso la crescita e oggi l'Istat segnala un meno 0,1% nell'ultimo trimestre, non è un fallimento, un primo passo falso del governo? Se noi vediamo i dati da quando questo esperimento si è iniziato, i dati hanno dei segni differenti. Detto questo è evidente che quel dato deve preoccupare che sia ancora più urgente passare dagli slogan ai fatti, ai nostri fatti. Noi chiediamo immediatamente che le famiglie, soprattutto quelle numerose, possano avere il riconoscimento di quello che fanno anche per il futuro del Paese. E questo crediamo che possa rilanciare i consumi. Abbiamo presentato un emendamento al decreto in discussione in questo momento. E poi crediamo che lavoratori autonomi, commercianti, agricoltori, ecco le categorie che oggi stiamo ascoltando, debbano essere considerate finalmente categorie di serie A. L'ultimo anno sempre l'Istat segnerà meno 0,5, quindi voglio dire la coalizione al governo. L'anno è iniziato a giugno, ci sono segni ovviamente differenti per quel che riguarda lo spread e nessuno dice che questi dati sono dati soddisfacenti. Bisogna assolutamente accelerare. D'altra parte il problema è l'alternativa. A noi sembra che l'alternativa sia soltanto quello di sfasciare, non quello di avere una soluzione differente per questo Paese. Per me si diceva che con le riforme si cresce, poi alla fine arriva l'Istat e dice che invece si decresce. Anche nell'ultimo anno meno 0,5. Non è che con le riforme si cresce. Le riforme, soprattutto quelle istituzionali, servono a cambiare il Paese e appunto non c'è la bacchetta magica. I risultati si vedranno nel tempo, non è immediato. Sicuramente noi dobbiamo fare ancora molto, dobbiamo far ripartire i consumi. Oggi abbiamo fatto un decreto, ieri, lavoro, che ci consente anche di fare gli accordi con Electrolux e con tutto quello che riguarda la possibilità di regolamentare il mercato in maniera differente, ma è chiaro che è solo l'inizio di una lunga serie per poi fare in modo che tanti giovani che sono disoccupati possano trovare un posto di lavoro. Grazie. Nessun imbarazzo ancora? Ma io credo che non si tratti di imbarazzo, io credo che l'investimento è sul futuro e che ovviamente l'imbarazzo ce l'avremo se fra un tot di tempo non vedremo i risultati.